Tra gli ospiti d'eccezione c'è anche Vittoria dei Mane Schiene, Francesco Cristina. Una folle festa di Unwin, orrore e umorismo, luce e ombre, ecco Dance Macabre, riecco gli immortali Duran Duran. Un insolito mix di cover, dai Rolling Stones a Billie Eilish, spettrali riletture di vecchi brani ed inediti come questo che dà il titolo all'album, in uscita il 27 ottobre, giusto in tempo per Rividi e Zuccheri. Bait Camaleonte, dici Durand Duran e di cialdi otta, tra gli un romantic e misteri eine collettiva. Ingiusto però relegarli solo alla Golden Age, li sposerò Simon Le Bon. Nel nuovo disco ospiti speciali e vecchie conoscenze da Nigel Rogers agli ex storici hitterristi della band con Bruno e Andy Taylor che continua la sua lotta contro il campo ma poi, dite o dite, c'è anche lei E già, Victoria Di Maneskin l'hanno voluta proprio in Duran per suonare il basso su una cover mica banale Psycho Killer di Tolkien Ex Luce nell'oscurità e oscurità nella luce senza perdere strada, auto-ironia e divertimento benvenuti nel nuovo vecchio mondo di Duran Duran